e siamo con il maestro vincere de paola nella sua sede nel suo studio artistico allora maestro abbiamo appreso di questa sua nuova opera vorremmo conoscerla meglio ce la vuole spiegare si intendi mente è quello di dare vita tanto a una a una scultura che possa raccontare la storia della città ma in maniera pare singolare perché si è voluto dar vita alla linea o perlomeno a quello che è tanto amato dal pitagora cioè la piramide e quindi legarmi a questo concetto a piramide per dar poi vita a una scultura la scultura che racconta tutte le sue tre facce i momenti salienti di tanto il periodo storico quello che in questo momento possiamo vedere il periodo tradizionale è il futuro quello che potrebbe essere il futuro per la città di maestro vincere che cosa rappresentano innanzitutto questo monumento questa questa scultura quest'opera ci ha spiegato appunto alcuni dettagli ma vorremmo conoscere meglio le superfici triangolari che di una piramide una piramide che ha realizzato quindi vorremmo appunto conoscere i dettagli di questa sua scultura se partiamo dal momento diciamo più antico che si vuole raccontare quindi abbiamo sulla faccia di una di un lato della piramide la presenza romana quindi questa nave romana è una nave greca in guerra ancora di più su un mare abbastanza formato dove delfini che saltano nell'acqua ricordano comunque la bellezza del mare di Tarno che comunque resta con questa presenza ancora ancora di delfini chiaramente l'elmo spartano con la presenza dello spartano che guarda questo mare dall'altro lato invece si apre una punta della piramide per dare spazio a che cosa a una piccola nave un draccar vichingo per raccontare la storia che continua dopo la grecia abbiamo i romani abbiamo i vichinghi i normanni e tutti gli altri quindi questa piccola nave normanna si affaccia nello spazio di questa storia appena appena dopo esserci stata questa presenza greca e questa è la faccia che si vuole raccontare per quanto concerne la storia sulla città di Tarno ecco una delle altre facce di questa piramide ci spiega maestro il significato anche di questa questa parte della scultura questo lato la piramide è indirizzata a valorizzare la tradizione di Tarno quindi l'anima stessa della della città vecchia considerando che ho voluto evidenziare il castello aragonese non come solitamente lo si fa vedere guardandolo lateralmente con le sfettorie ma messo da sopra per raccontare l'anima del castello c'è la vita del castello interessava non l'immagine diciamo architettonica del castello ancora più sopra possiamo vedere sempre piccole tracce chiaramente il palazzo di città le colonne d'oriche la via d'uomo al posto delle case signorili ho considerato di valorizzare ancora di più l'immagine di queste evidenziando delle armi araldiche cioè degli semi delle famiglie nobili che investivano interamente via d'uomo ancora più sopra la facciata della chiesa di San Giuseppe ancora più sopra la torre dell'orologio ancora più sopra la torre di Raimon dell'Orsini a destra della torre il piccolo ponte il mare con tracce della vita dei pescatori nasse e altro mentre alla sinistra poi l'indimenticabile processione della dolorata con due perdoni e scendendo più giù quello che prima era praticamente quello che oggi chiamano il matitone che in realtà prima invece era una torre normanna ancora più giù poi scendendo piano 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 ci troviamo su una strada che via via ci porta andando sulla destra ai caseggiati che purtroppo non possiamo parlare che siano tradizionali o che raccontino grandi storie visto che sono costruite nell'epoca fascista piuttosto recenti questa e vuole essere appunto la vita l'anima della città vecchia ecco allora adesso il maestro ci spiega questa terza faccia della di questa piramide se qui ho voluto raccontare il futuro per tanto c'è questa donna questa mazzone che lancia una sfida talento che lancia una sfida al suo futuro tenendo ben saldi i piedi sulla ponte punta penna e il ponte girevole questa immagine vuole essere quindi non soltanto tradizione storia ma guardare oltre guardare oggi per cercare di immaginare una vita diversa però raccogliendo il come possiamo dire il corredo nella nostra della nostra identità storica ecco poi alla base di questa piramide notiamo una sfera che cosa rappresenta maestro questa sfera la sfera rappresenta comunque che taranto non è una cosa parte nel mondo ma è parte integrante di questo mondo però conserva la di in maniera radicata il valore della sua della sua della sua vita mi sono permesso di scrivere un pensiero all'interno della sfera inserito all'interno della sfera ecco un pensiero che racconta anche una situazione storica come no ci descrive appunto questo pensiero maestro il pensiero è semplicemente che tutti i tarantini che amano taranto restano ancorati all'immagine di taranto non come immagine ma come vita come passato come attuale ma ancora di più come futuro non vogliono cancellare la traccia del passato ma non vogliono stare ancorati soltanto al passato ma guardare una taranto che va avanti che grazie a una mensazione attenta possa riuscire a dire qualcosa di più e di oltre ecco notiamo che la struttura è poggiata su questo questi elementi no questi elementi che la sorreggono che significato hanno questi elementi maestro vorrei che si considerasse che taranto non è seppellita ma vive in un futuro vive in un attuale quindi quello che noi vediamo sotto la piramide è vita e movimento ci sono degli ingranaggi che dicono che la vita continua in qualche maniera permetterà taranto di guardare oltre quello che c'è adesso ma forse possibilmente molto di più è una struttura in movimento come si può vedere e che ancora di più vuole anche rispettare rispettare quelle che sono l'attuale posizione di taranto a livello tecnologico quindi il sotto di questa piramide in qualche maniera vuole considerare anche la presenza per molti inopportuna ma anche necessaria della dell'italseider quindi niente vieta a pensare che taranto vive su l'italseider dentro l'italseider l'italseider che vive però dentro la città questo è importante la città che ha i piedi l'italseider una struttura che non è altro che vita per taranto però attenzione una vita che non possa cancellare nella storia nelle tradizioni nel futuro di taranto bene maestro ci ha detto appunto del ci ha descritto diciamo tutta questa questa bella opera che ha realizzato abbiamo una considerazione da farle relativamente al supporto che regge questa piramide e cioè un un'industria inquinante altamente inquinante che ha causato parecchi problemi alla nostra città e quindi sarebbe ospicabile che quella piramide poggiasse sulla base che lei ha realizzato eliminandola e poggiando quella piramide sulla sua naturale base e valorizzando tutto ciò che lei così egregiamente ha raccontato vorremmo sapere anche da parte sua questo sua voglio dire opinione anche in merito a questo tema sì sì no io sono totalmente d'accordo con quello che lei dice resta il fatto che comunque la struttura non deve dimenticarsi che esiste anche il futuro il futuro che non vogliamo che sia parte della di un'italseider ma che sia di altro perché sia un futuro giovane un futuro che possa guardare avanti quindi quello che noi vediamo al di là del quello che potrebbe essere lo spirito di base e si è fatto una serie di ingranaggi che vestono questa struttura che non vogliono parlare di italsider o di altro ma soltanto di una vita che continua che si evolve che ruota e che comunque quello che oggi è questo domani sarà altro però resta sempre in piedi e sopra la storia della città naturalmente tutto questo deve essere in osseguo alla vita al rispetto dell'ambiente dal rispetto dell'arte della cultura di tutto ciò che questa nostra meravigliosa città può dare grazie maestro di questa sua disponibilità e in bocca al lupo per tutto ciò che lei fa per la nostra città relativamente al suo diciamo percorso artistico molto importante grazie grazie a lei